Siamo con Rocky Siberi, Rocky si è entrato, hai fatto il tuo dovere, hai fatto gol. La partita comunque è difficile nel primo tempo, nel secondo tempo poi è stata in discesa, sei entrato anche te, hai dato una mano davanti, si è visto perché la manovra è diventata più fluida, hai messo qualche palla velenosa in mezzo e poi hai segnato anche. Va bene, abbiamo vinto quello più importante, sono entrato nell'ultimo minuto del primo tempo, subito ho fatto la sesta a Dani, abbiamo fatto 1-0, già la partita cambia, anche loro la partita non era facile, nel secondo tempo abbiamo fatto pressione, il gol è arrivato, loro hanno anche avuto un'opportunità, il portiere ha salvato, non è rimasto così, fino all'ultimo abbiamo fatto il 2-0 e ho riuscito a fare il 3-0 alla fine, chiudiamo la partita e abbiamo preso i tre punti. Ti ho visto veramente in forma strepitosa Rocky, sei riuscito a fare anche la preparazione quest'anno bene o hai avuto problemi? No, ho un po' di problemi con il lavoro, oggi non ero in forma, mi auguro ancora di allenarmi bene, devo perdere ancora un po' di chili che mi mette in forma, però oggi era abbastanza sulla strada buona, per le prossime partite stiamo andando piano piano avanti per migliorare. Grazie Rocky, grazie a te.